Non mi interessa chi ha ucciso Pierina, ma se sei complice, sei sempre colpevole. In Italia la pena di morte non c'è, ma la meriteresti. Meriti di fare tanti anni di carcere, anzi, meriti che gettino via la chiave. Ecco alcune frasi tratte da una lettera anonima inviata a Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata assassinata nei garage della sua palazzina a Rimini il 3 ottobre. Il mittente anonimo della lettera accusa apertamente la nuora, già oggetto di sospetti per alcuni comportamenti ritenuti ambigui. La donna era coinvolta in una relazione segreta con il suo vicino di casa, Luis da Silva, un senegalese sposato con Valeria Bartolucci, a sua volta amica di Manuela. Prima della sua morte Pierina aveva scoperto l'infedeltà della nuora al figlio e si era confidata con Valeria, senza sapere che l'amante di Manuela era proprio il marito di quest'ultima. La tresca è venuta alla luce solo durante le indagini. Tutti i personaggi coinvolti abitano sullo stesso pianerottolo, al terzo piano della palazzina dove è avvenuto l'omicidio. Continuando con il contenuto della lettera, si legge. Se c'è crisi nella coppia, perché tu e tuo marito non vi separate? Perché uccidere Pierina Paganelli? Non c'è perdono. Nella lettera, tuttavia, mancano prove del coinvolgimento di Manuela, che al momento non risulta essere oggetto di indagini. La procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti per risalire all'autore. Manuela è la moglie di Giuliano Saponi, il figlio di Pierina. Al momento dell'omicidio di sua madre, Giuliano si trovava in ospedale, in convalescenza dopo un grave incidente occorso a maggio, che lo aveva tenuto in coma per due mesi. Non sembra che l'incidente di Giuliano sia collegato all'omicidio di sua madre. Nei giorni scorsi l'uomo è tornato sul luogo del delitto e ha espresso il suo dolore. Chi ha così tanto odio da infliggere 29 coltellate. È stato un eccesso di odio, di cattiveria. Secondo me a fare questo è stata una mente bacata. Bisogna capire bene chi è stato. A Giuliano non è stato permesso di rientrare nell'appartamento della madre, attualmente sotto sequestro. Ha dichiarato. Immagino che sarà durissima, ma non vedo l'ora di poterci entrare per sentire quegli odori. Mia madre era la mia quotidianità, la mia vita di tutti i giorni. Da un mese rientrava dalle adunanze dei testimoni di Geova alle 20.10, fino a un mese prima alle 22.30. La sera del 3 ottobre, Pierina è tornata a casa alle 22, un orario insolito rispetto alla sua routine abituale. Qualcuno poteva essere a conoscenza di questo cambiamento. La connessione tra assassino e vittima, rivelata dall'audio di una telecamera in cui si sente il saluto del presunto killer a Pierina, ha immediatamente concentrato le indagini all'interno della famiglia. I principali sospetti sono caduti su Manuela, con cui c'erano dissidi, sul suo amante e su suo fratello Loris. Nonostante Loris non risieda nel condominio, ma a Riccione, era presente quella sera a cena dalla sorella, nel medesimo palazzo in cui avveniva l'omicidio nei garage. Gli inquirenti hanno interrogato anche Valeria, la moglie di Louise. Non trascurano alcun dettaglio, raccogliendo indizi, prove e testimonianze, ma sembra che la chiave per risolvere il caso potrebbe ancora una volta dipendere dalle analisi del DNA. Tuttavia, i risultati delle indagini scientifiche stanno tardando ad arrivare, e c'è il timore che possano essere inconcludenti, o che l'assassino non abbia lasciato tracce. Queste incertezze potrebbero prolungare i tempi dell'inchiesta, che al momento non ha individuato alcun sospetto. Con il tempo che scorre, coloro che amavano Pierina chiedono giustizia per questa anima innocente uccisa senza apparente motivo.